Non fare le solite scene da pazzo se segna il Milan. Io faccio quello che mi sento. No, non farle, perché anche a casa... Non mi interessa, non mi interessa. Se è diventato stucchevole... No, con me la banchetta del comando non serve niente. Però quello fa niente. Però se segna il Milan non me ne frega niente di essere stucchevole. Ah, ben bravo, ben venga. Oh, bravo, vedi, ti fai anche l'applauso corno. E poi se non ti piaccio vai pure a casa. A me non me ne frega niente, lo sai. E allora come fai a interpretare il pensiero degli altri? Perché purtroppo quando vado in giro, mi capita quale rarie volte che vado in giro, mi chiedono di te, mi dicono, ma perché Crudelli Coutinho a fare pirla in quella maniera? Perché è solo pirla. Coutiziano, fai partire il cronometro. È ufficiale, è ufficiale, è solo pirla. L'ha detto lui, eh? Va bene, ha detto lui, ragazzi. Riceve da De Jong, poi sventaglia sulla destra. Coutinho stoppa la palla di petto, se la allunga un po' troppo gliela fregano. Stavo a dire gliela ciurano, ma comunque... Hai detto Coutinho? Gioca nell'Inter, Coutinho. Coutinho gioca nell'Inter, no? Ciziano, hai detto Coutinho, vedi che ti sta distraendo. Robinho? No, hai detto Coutinho. Hai detto Robinho. Hai detto Coutinho? Ma che ha detto Coutinho? Sì, 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 sei riballito ormai. Ma per piacere. In verticale. Attenzione, palla al centro, Robinho. Botte il tiro! Tiro di sinistro para Terranduhar. Attenzione, parte la traiettoria, attenzione. Gol del Catania! Gol del Catania! Le grottaglie. Gol di le grottaglie di testa. Anticipato a Cerbi. È arrivato le grottaglie di testa con una gran zuccata, mette dentro. Gol dell'ex. Ancora un golo su palla inattiva. È la decima. Non è giusto che sia. Boatenga, cross in area, deviazione sotto. Gol! 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 E' Cianawi! E' Cianawi! Sotto la testa, sotto la traversa! E'! 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 E' Cianawi la testa! Baby, fai di me che vuoi stare. notte. E'! 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 Undicesimo gol! Undicesimo gol in campionato! Diciassette gol della stagione! E' Cianawi la messa! Fuori gioco! Posizione centrale, prova la conclusione! Gol! 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 Gool! Boa! Teng, teng, teng! Boa! Teng, teng, teng! Boa! Teng, 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 teng! Teng, teng! Teng! Due a uno! Dimmi, perché non so, di sbagliato che c'è, ora che ti sto amando baby, baby, dammi tutto a te stessa e ti ammi e ti avrò. E' stancato sulla sinistra per El Sharawi, tiro, gol, gol, El Sharawi la messa, El Sharawi di destro, tiro a girare, che prende il pane e si sacca, El Sharawi, doppietta di El Sharawi, 12 gol in campionato, 18 gol stagionali, 3 a 1, E' la messa, El Sharawi, il faraone la bella. E' l'ora importista.